lezione di storia cause sconosciute l'uomo di neanderthal si estinse dall'uomo sapiens discende poi l'uomo sapiens sapiens poesia 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 Dai e Ale sta facendo la sua prima intervista dal giocatore della fucina ma viene disturbato dal fub e le sue canzonette io il mio sogno è coinvolgerla anche perché fisicamente sta molto bene e quindi il mio sogno era a parte avere Il mio sogno era a parte aprire un brand, un negozietto, un brand e lavorare via l'è. Poi ovviamente non sono usato... Oh, scusa, ti ho fatto abbastanza, ti dispiace? Sì, se no te la chitarra ti ho lì più, fai il favore, fai la coscia. Si è superato. Ma oggi secondo me vi giuro gli intertristi piangono. Fino a dopodomani, oggi li umiliamo proprio, secondo me. No, è nel riperotto il cazzo, basta. Dai, ti giuro, oggi sono mai piangono proprio. No, no, basta, basta, basta. Eh, ho capito, ma posso dare un parere? Basta. Secondo me oggi vedremo proprio l'intertristi di piangere fino a dopodomani. L'anno scorso, Giuseppe, io avevo l'ansia. Quest'anno invece mi sento troppo superiore. Ma neanche io, e non ce l'ho l'ansia, però mi sento troppo superiore. Cioè non ho proprio paura di un cazzo. C'è poco da fare. Ogni volta che vedo 111 in live mi viene in mente questa cosa. Una domanda. Ma aiutizza l'edizzo? No. Eh, comunque rivoluzione, a me cazzo è un botto. Hitmap di Inter Milan. No. No, 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 via, via, via. Il mago dei pronostici. Dico, caro Cohen, che non ho problemi a dispormi e secondo me domani il Milan vince anche con relativa scioltezza. Vabbè, l'ha convinto, praticamente. Ma che dici, Faina? No. Carino. Sempre individuo. I 95 minuti del Milanista stasera. Allora, non trovo differenze. Ma dai, però è vero, dai. È vero, cazzo. Ecco cosa fa il conoscente durante una serata di Champions. Ma secondo te... Dammi la mano, cazzo. Che cazzo. No. Ho paura. No, il telefono. Ragazzi, no. Bacca d'aria. Ma se ti ho fatto questa cosa, io... Randy Nine, cosa fai quando non sei su ACV? Un vino da Nutella. Un vino da Nutella. No, ma dai. Vediamo. Ha cercato più lui il gol di Immobile. Sette minuti fa. No, ma che schifo. No, ma che schifo. Ma che schifo, dai. immenso. Meraviglioso, meraviglioso. Ecco dove l'avevo visto. Sono preoccupato. Vabbè, dai. Poteva andare peggio, cazzo. Dai. Ascolta, forse non mi crede... Lo sai che parecchi me lo dico? Ma pure per Francesco Fabino è possibile? Sì, sì, guarda. Guarda, io l'avrei detto. La prima volta che ti ho visto ho detto ma perché avete invitato Fabino? Poi l'enigma dietro il nome. Ah, ecco. No. No, beh, ma... È fantastico. È fantastico. Vabbè, immagino vado avanti così per tutto il video. POV, point of view. Manfredi, a giugno con l'Inter campione d'Italia. Milan vince la Champions. E tutti i nuovi acquisti fanno bene. Roma vince l'Europa League. No, no, no. No, no. Ma cos'è il palo? Ci disse già. Ci disse già. Quando è in disco prendi il palo da una 2010. Un po' bordelli. È una buona. Però è giovane e può crescere. No, madonna. Mi è mancato Viegola Poglucenco. Allora, ragazzi, io sono super interi tatuagio ma qua non vedo obiettività cioè vi vedo solo con la maglia addosso. E ora ce la leviamo? Quando la promozione Top Class non ti convince del tutto. Ecco i tre televisori Top Class del 2023 che vogliamo consigliarvi qui da Troni. Ho pure editore. C'ho tre televisioni nazionali quindi lo pubblico e faccio quello che cazzo mi pare. Bello di Nora. Ma questa è bella, questa è bella. Un attimo. Questa è bella secondo me. Questa è cosa? Guarda. Attenzione. Dammi un sumo. E non dovrebbe succedere. Attenzionale. Bello. Questo è bello, eh? Molto bello. Beviz. No, bua tang. E questo è facile. Ibra con la coda. Che campione. Flashback. Stessa critica. Stesso risultato. È già finita. Rassegniamoci. Voglio il tuo esonero. Tu già vi in aria esonero. Non sei nessuno. Mi sei attivato. A spalletti. Tu devi essere esonerato. No. Garzia. Garzia. Te ne devi andare. Momento. 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 E chi? Ma? E chi? Spalletti si non avviene a Napoli. Prima la mattina. Perfetto. Spalletti. Via da Napoli. Domani mattina. Che combina. Che combina. Che combina. Fa pure la traduzione. Non c'è niente più, tu sei barbagiano, ma un'etaria da cominciare, è cominciare tu. Via da Napoli, via da me, ma sei antipatico per il migliore che sei voluto. Questo è proprio un bel red, questo è bello, questo è bello.